Allora, tornare qui sul canale dopo tanto tempo, parlandovi di cose brutte, non è il massimo come ritorno e quindi vi chiedo scusa, fin da subito, perché avrei preferito parlare di altro, tipo del fumetto che sto facendo, di tante cose belle, ne parleremo in futuro quando avrò tempo di ricominciare di nuovo a fare anche qualche video su YouTube, ma non oggi, non oggi perché vi voglio parlare di una cosa che in questi giorni mi ha fatto parecchio incazzare dopo la morte del maestro Toriyama. Ed è la frase banale che tutti hanno detto, un pezzo di infanzia se ne va, ed è vero, Toriyama è colui che ha arricchito la nostra infanzia con la sua immaginazione, con la sua fantasia, regalandoci dei personaggi meravigliosi, ma non solo di Dragomolo, anche di Dragon Quest, anche di Dr. Slumperale, ha creato qualcosa di fantastico, che è rimasto talmente dentro, che ancora oggi è ciò che ricordiamo di più con gioia della nostra infanzia, è le giornate che passavamo a guardare Dragon Ball e non solo, anche a disegnare i personaggi di Dragon Ball. Ogni disegnatore della mia generazione ha passato le giornate a disegnare i personaggi di Dragon Ball, e non solo, ma anche semplicemente mettersi lì a creare dei nuovi mondi, magari creando dei propri personaggi che comunque erano ispirati ai personaggi di Dragon Ball, quindi era qualcosa di naturale, di meraviglioso. Io mi ricordo che quando ero ragazzino, registravo le puntate in videocassetta, poi le stoppavo e guardavo la televisione e mi mettevo lì a disegnare ciò che vedevo, ed era fantastico, meraviglioso. Non c'era internet, quindi non potevamo andare a cercare robe, reference, bello, bello ed è qualcosa di naturale. Questo è che ci ha lasciato il maestro Toriyama, la voglia di immaginare, di creare, di sfruttare la nostra fantasia. Se io oggi perdo ore e ore a disegnare un fumetto e voglio in qualche modo pubblicare, se faccio questo bestiere, è grazie anche a Toriyama. Davvero. La cosa più naturale che ho fatto quando ho saputo della sua scomparsa è ritagliarmi un momento di spazio, levare tutto, stopparmi. Mi sono chiuso in ufficio e ho fatto un disegno, quello che vedete a fianco, per omaggiarlo. La cosa più naturale e semplice che ti viene in mente, così, ho l'ho voluto ricordare nel mio piccolo. Lui sì, è stato importante, davvero importante per la mia crescita, sia legata all'intrattenimento, ma anche alla crescita personale, lavorativa e creativa. Un semplice gesto. Bene. Quando ho postato l'illustrazione, l'ho messa anche su Facebook. E la cosa che mi ha fatto molto, molto piacere è vedere che tante persone hanno iniziato a commentare postando il loro disegno. E allora mi sono detto, non sono da solo, ovviamente, ma tantissimi hanno distinto, fatto il mio stesso gesto. Ovvero quello di prendere la matita e mettersi lì a disegnare, solo per ricordarlo. Come quando eravamo ragazzini, cioè tornavi da scuola, dopo aver visto la puntata ti mettevi lì a disegnare. E non importa il risultato finale, perché non è quello il punto. Perché magari non saranno perfetti quei disegni che vedevo postati sotto nei commenti, sotto il mio post. Non ha importanza. E quel gesto io lo trovo meraviglioso. Poi c'è il lato peggiore di internet. Ovvero non l'uso, che non sono contrario all'uso, ma l'abuso dell'intelligenza artificiale per commemorare il maestro Toriyama. Uno scempio, una schifezza allucinante. Ho visto le peggio cose. Io non uso questo termine, veramente. Non lo uso, cerco sempre di non abusarne, perché lo trovo anche un termine stupido. Ma è l'unica parola che mi viene in mente. Cringe. Andavo in home su Instagram, oltre a tutti i post, notizie, eccetera, eccetera, legate da Kira Toriyama, fan art, realizzate da gente che magari disegna. Ma, ripeto, non bisogna essere dei grandi disegnatori per ricordarlo. Nel nostro piccolo. Ma poi vedevi una miriade di post, condivisi, ricondivisi. C'è una roba virale, all'ennesima potenza. Illustrazioni generate con l'intelligenza artificiale, una più brutta dell'altra. Ma proprio orribili, di cattivo gusto. Vedere tipo i personaggi che vanno al funerale con i fiori in mano. Majinbu che piani. Una roba veramente tristissima. Goku che abbraccia la lapide di Toriyama. Che portano la sua bara con 18 sfere del drago sopra. Ma manco a preoccuparti di quante sfere del cazzo hanno appiazzato l'intelligenza artificiale. Proprio da deficienti. La deficienza artificiale, proprio. C'è l'ennesima potenza. Ma veramente noi possiamo, nel 2024, commemorare un grande artista che è colui che ci ha insegnato, indirettamente il piacere di immaginare, di creare le cose. È possibile veramente che ci dobbiamo affidare a un cazzo di algoritmo, a un cazzo di programmino dove ci metti quattro parole chiavi e allora ti genera l'illustrazione dicendo Oh, guarda che ho fatto una cosa meravigliosa per ricordare il maestro Toriyama. Veramente siamo arrivati a questo. Che a me questa roba fa schifo. Mi fa cagare. E trovo veramente di cattivo gusto addirittura. Proprio pessimo. Ma così non lo state omaggiando. Lo state oltraggiando. Muore un importante cantante che ci piace tanto. Vabbè, non so. Volete commemorare Freddie Mercury? Che fate? Vi mettete lì? Vi filmate col karaoke, vi mettete a cantare e poi con il programmino, l'intelligenza artificiale modulate la vostra voce per farla somigliare a quella di Freddie Mercury e ve l'avete omaggiato. No, avete fatto una merda. Proprio la base è sfruttare l'intelligenza artificiale per ricordare un artista, un creativo, un visionario come Akira Toriyama è un insulto. Andare lì e defecare sulla sua lapide proprio. Fa schifo questa cosa. È orrenda. Vedere tutte quelle persone che condividono, ricondividono pensando addirittura che qualcuno si è messo lì a creare finte opere ad olio create con l'intelligenza artificiale. Oh, ma come sei bravo? Che bella illustrazione, che bel omaggio. Davvero? E la cosa che mi fa ancora più incazzare, attenzione, sono i notiziari, i telegiornali. Cioè, annunciano la morte di Toriyama e fanno passare le illustrazioni generate con l'intelligenza artificiale in tre secondi. Ma siete impazziti? E poi, ovviamente, la mitica fanpage, no? Ti è stata importante, stimata, fa un post dedicato a queste illustrazioni generate con l'intelligenza artificiale, addirittura elogiando queste bellissime illustrazioni che trasmettono così tante emozioni. Ma di che? Ma siete impazziti? Un artista visionario come Toriyama che ci ha lasciato in eredità mondi fantastici che lui ha creato in tutti questi anni, noi andiamo proprio a sputare, a cagare alla sua memoria sfruttando le intelligenze artificiali. Siamo dei deficienti. Ci siamo completamente rincoglioniti. Punto. Questo vi volevo dire. Basta. Ci vediamo alla prossima. Forse, non lo so. Ciao.